Per noi religiosi dell'Opera Donorione è un giorno di grande festa perché abbiamo posato la prima pietra di questa grande struttura che a breve sarà realizzata, una nuova struttura sportiva e un luogo di richiamo per i giovani e non solo, per le famiglie che possono trovare qui un po' di ristoro, un po' di riposo, secondo lo spirito del nostro carisma, secondo il cuore di un grande uomo, di un grande santo che rivive in ciascuno di noi, in noi religiosi, nei laici e nei giovani che qui ritrovano se stessi nel divertimento, nel sano divertimento. Allora che la Vergine Immacolata e Soligirione guidino e benedicano questo luogo, oggi e sempre. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen!